La notte tra Gilulfo e Priscilla, nel Cavaliere inesistente, dal Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Prima di leggere questo brano tratto da questo romanzo, diciamo qualcosa sul Cavaliere inesistente e in generale sui nostri antenati. Il Cavaliere inesistente, infatti, è un romanzo del 1959 che completa la trilogia degli antenati. Dopo il Visconte di Mezzato e il Barone Rampante, si è detto Internos. Noi abbiamo parlato del Barone Rampante nella classe prima C, quindi con i ragazzi che hanno fatto il BN insieme con me. Infatti l'anno seguente, nel 1900, prima ha pubblicato questi tre romanzi l'uno separato dall'altro. Poi, nel 1960, Calvino riunisce in un unico volume i tre romanzi, che erano usciti separatamente, col titolo I nostri antenati, che allude ai problemi della contemporaneità. Nostri vuol dire che riguarda noi, che riguarda noi, insomma, lettori del mondo contemporaneo. Senza negare strane e inaspettate assonanze con il passato, come dice il vostro libro, le tre storie possono essere, citando Calvino stesso, possono essere guardate come un albero genealogico degli antenati dell'uomo contemporaneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle persone che ci sono intorno, di voi, di me stesso. Gli antenati, dunque, altro non sono che i protagonisti di un tempo, in cui, per quanto ormai alle nostre spalle, è però possibile riconoscere i pregi e i difetti, le ambiguità e le azioni distorte di chiunque viva nella civiltà del Novecento. E allora, come ben capite, è un po' una chiave di volta quello che dice Calvino stesso. È come se ci dicesse, guardate, è vero, stiamo parlando di un cavaliere dei tempi di Carlo Magno, ma, tutto sommato, stiamo parlando di noi stessi, o almeno di alcune delle storture. La tematica che abbiamo individuato come più importante di questo romanzo, allegorico, fantastico, perché ricordate che Italo Calvino aveva intrapreso, insomma, un filone fantastico, come abbiamo detto all'inizio del suo percorso, della sua narrativa. Il racconto fiabesco, sulla scorta anche di Ariosto, era un grande lettore Calvino di Ludovico Ariosto, ed evidenti sono i rimandi ad Ariosto. Questi sono personaggi che sono presenti anche nell'Orlando Furioso, Carlo Magno, il Paladini, eccetera. Ma la tematica più importante è il contrasto fra essere e apparire, un tema significativo in un periodo come quello in cui è stato scritto il testo del boom economico. Pensate al testo, per esempio, di Eric Fromm, avere o essere? Cos'è più importante? Avere, possedere, no? Nel caso di Agilulfo, mostrarsi, apparire, oppure essere davvero? Cioè avere una consistenza, avere un nerbo, una sostanza. C'è il rischio, insomma, che dietro l'apparenza, ad esempio, della ricchezza, o almeno dietro le grandi opportunità lavorative, che proprio in quegli anni si stavano aprendo, no? Anche per gli italiani, gli anni del boom economico, di cui iniziano a godere gli italiani, non ci sia più niente, ci sia il vuoto. Scoprire un vuoto, no? Qui ci può venire in mente anche Pirandello, no? Quindi dietro una maschera, un vuoto, un vuoto di una mancanza di essere. Questo è, senz'altro, uno degli aspetti più importanti in questo romanzo del Cavaliere inesistente. È perfino capace di amare, vedremo adesso in questo brano che leggeremo, Agilulfo, ma è vuoto, è tutto spirito, è tutto ragione, tutto mente e niente corpo. Si contrappone a lui un altro personaggio, esatto contrario, che è tutto materia e niente spirito, niente anima, niente mente, che è Gurdulù. Come Agilulfo si disinteressa di ciò che è corporale, dal momento che non ha corpo, ed è tutto mente, così Gurdulù è tutto corpo, non pensa mai, si disinteressa, insomma, di ogni tipo di pensiero. È un po' materiale come, evidentemente, potremmo dire, l'ispirazione potrebbe essere quella di Sancio Panza. Giusto, no? Quindi tutto corpo e niente spirito. E quindi, continuando questo paragone, Agilulfo potrebbe essere paragonato a Don Quixote. Anche Don Quixote era un idealista. Anche Don Quixote era sconfitto dalla storia, dalla realtà storica, esattamente come Agilulfo. Agilulfo. Ecco, quindi che, come vedrete, questo personaggio è presente nel brano che stiamo per leggere. Ecco, giusto per contestualizzare, andiamo tranquillamente adesso al testo che è posto nella pagina 225. No, anzi, prima di andare al testo, vorrei sottolineare ancora alcune cose come introduzione. Per esempio, in una nota del 1960, cioè l'anno proprio in cui Calvino pubblicò i nostri antenati insieme, lui dice che il Cavaliere è inesistente perché non fa più attrito con nulla, non ha più rapporto, lotta, e attraverso la lotta armonia, con ciò che gli sta intorno, la natura o la storia. Insomma, non è in grado di incidere sulla realtà. Ecco, bellissimo, diciamo, questa immagine, questa allegoria di quella che è l'inconsistenza dell'uomo. Dicevamo proprio, l'uomo contemporaneo che pensa di avere, si presenta, no? Si mostra, no? Come qualcuno che ha tanto, no? Ma poi perde la personalità e quindi perde la consistenza. Va bene, allora dicevamo, adesso sì, andiamo al testo che è a pagina 225, Erotti. Ora, nel corso del romanzo c'è una parte di cast, cioè di ricerca, che era una cosa abbastanza usuale nei testi cavallereschi. In questo caso si tratta di Agilulfo che ha la ricerca di prove che legittimino il suo titolo nobiliare. Infatti, a un certo punto era comparso nell'accampamento cristiano un cavaliere, un certo Torismondo, che metteva in discussione il fatto che Agilulfo avesse davvero salvato la vergine Sofronia 15 anni prima. Spiega, infatti, che Sofronia all'epoca non era più vergine, dal momento che era sua madre. E questo toglierebbe ad Agilulfo proprio, diciamo così, la causa del suo onore di cavaliere, del suo titolo di cavaliere. Ecco, volevo dire. Agilulfo parte così alla ricerca di Sofronia per dimostrare la falsità dell'insinuazione di Torismondo. Bradamante parte anche lei all'inseguimento di Agilulfo perché Bradamante è all'inizio innamorata di Agilulfo perché lo vede come un cavaliere perfetto, lindo, nella sua armatura. Alla fine però, ecco, scusate se vi anticipo il finale del romanzo, ma voi del resto l'avete già letto, scopriremo che Bradamante non è altro se non suor Teodora che sta raccontando tutta quanta la vicenda del cavaliere inesistente e alla fine si unirà con Rambaldo. Quindi all'inizio è solo Rambaldo che ama Bradamante, ma poi questo amore sarà corrisposto. E alla fine lei uscirà dal convento, così termina il romanzo, e si unirà con Rambaldo. Mentre Torismondo cerca di sapere chi è suo padre. Ecco, vedete, tutto questo insieme di fughe, inseguimenti, fa venire in mente proprio l'Orlando Furioso, no? Perché era un po' una caratteristica di quel poema, tutto questo intreccio di fughe, inseguimenti, eccetera, eccetera. E quindi si assiste qui alla riproposizione del tema ariostesco. Del resto già Ariosto, in maniera molto moderna, aveva anticipato quello che Calvino sviluppa in questo romanzo. Cioè che tante volte l'uomo desidera qualcosa, ha un sogno, un desiderio, che però risulta irrealizzabile. Agilulfo viene momentaneamente distratto, perché libera Priscilla e altre donne da un esercito di orsi. Ecco, il brano che stiamo per leggere, tratto dall'ottavo capitolo dei Cavaliere inesistente, si pone esattamente in questa fase del racconto. Ma Agilulfo non si sa adattare alle circostanze. La sua impeccabilità esteriore attira Priscilla come aveva fatto con Bradamante. Quindi anche Priscilla si innamora e è affascinata dalla bellezza esteriore, tutta esteriore di Agilulfo. Ma Agilulfo non cambia mai, continua con i suoi cavigli linguistici, anche quando Priscilla esprime la sua attrazione per lui. Ecco, la questione dell'esattezza, l'abbiamo già vista in una delle elezioni americane di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è importante per Calvino. Quindi in un certo senso potrei dire che è un po' autoironico Calvino, quando ci presenta Agilulfo e la sua attenzione per il linguaggio, per la storia delle parole, eccetera. Perché è un po' anche la sua attenzione, la sua esattezza, la sua ricerca di esattezza, di precisione nel linguaggio. È anche quella di Calvino, non solo quella di Agilulfo. Il problema è che poi, quando ti trovi di fronte alla realtà, devi essere in grado di passare dall'astrazione, dalla ricerca filologica, eccetera, a renderti conto che hai di fronte ad esempio una donna che è innamorata di te. Ma Agilulfo questo non lo può fare perché non ha corpo, è tutto esclusivamente mente. Bene, allora adesso leggiamo proprio questo brano tratto dal cavaliere inesistente. Agilulfo, il rompe sullo spiazzo dove sorge il castello. Ecco, il castello è dove si trova appunto Priscilla. Tutto intorno è nero d'orsi. Nel senso che Agilulfo, in precedenza, nell'antefatto di questo brano, aveva incontrato una donzella. In realtà questa donzella era una domestica di Priscilla, che aveva chiesto aiuto proprio ad Agilulfo contro degli orsi, era impaurita da questi orsi. E Agilulfo gli ha promesso, insomma, il suo aiuto di cavaliere. E quindi, infatti dice, alla vista del cavallo e del cavaliere, digrignano i denti e si assiepano fianco a fianco a sbarrargli la strada. Gli orsi hanno capito che il cavaliere è il seguito del cavaliere. Il cavallo e il cavaliere, insomma, è lì proprio per attaccarli. E quindi si assiepano fianco a fianco a sbarrargli la strada. Quasi come a fare il fronte di un esercito, questi orsi. Agilulfo carica, mulinando la lancia, viene davvero in mente Don Quixote. L'espressione di questo genere, quindi, fanno capire che anche il Don Quixote di Cervantes è un testo che ha ispirato il calvino del cavaliere inesistente. Qualcuno ne infilza, altri ne stordisce, altri ne ammacca. Sopraggiunge sul suo cavallo Gurdulù e l'insegue con lo spiedo. Ecco, diciamo, sempre più grossolano, più materiale. Gurdulù usa lo spiedo, invece, mentre Agilulfo usava la lancia e le armi tipiche del cavaliere. In dieci minuti, quelli che non sono rimasti stesi come tanti tappeti sono andati a rimpiattarsi nelle più profonde foreste. L'impresa di Agilulfo riesce. Cioè, gli orsi sono messi in fuga, alcuni di essi sono addirittura trafitti. Saperse la porta del castello. Nobile cavaliere, potrò la mia ospitalità ripagarvi di quanto io vi devo? Sulla soglia era apparsa Priscilla, attorniata dalle sue dame e fantesche. Perché? Dicevamo, si tratta di una vedova che vive in questo castello insieme alle sue fantesche, quindi alle sue domestiche. Tra loro era la giovane che aveva accompagnato i due fin lì. Cioè, tra loro c'era proprio quella donzella, quella domestica, che aveva accompagnato Agilulfo e Gurdulù fino lì. Non si capisce come era già a casa e indossava non più le vesti lacere di prima, ma un bel grembiule pulito. Ecco, attenzione, questo potrebbe significare che quella domestica era stata mandata apposta a chiedere aiuto, insomma. Quindi era un inganno, poteva essere un inganno anche questo. Agilulfo, seguito da Gurdulù, fece il suo ingresso nel castello. La vedova Priscilla era una non tanto alta, non tanto in carne, ma ben lisciata, dal petto non vasto, ma messo ben in fuori, certi occhi neri che guizzano. Insomma, una donna che ha qualcosa da dire, appunto scrive Calvino, attenzione però, una donna che ha qualcosa da dire per chi ha un corpo. Agilulfo non ha un corpo, quindi. Era lì, davanti alla bianca armatura di Agilulfo, compiaciuta. Il cavaliere stava sostenuto, ma era timido. Cavaliere Agilulfo, emmo Bertrandino de Guildinverni, disse Priscilla, già conosco il vostro nome, so bene chi siete e chi non siete. A quell'annuncio Agilulfo, come liberato da un disagio, depose la timidezza e assunse un'aria sufficiente. Ciò non di meno si inchinò, piegò un ginocchio in terra e disse, servo vostro, e salzò di scatto. Ecco, allora, come vedete, lui è sempre in grado di presentarsi bene e di usare insomma quelli che sono le regole della garanteria anche, della cavalleria in genere, anche se appunto, dicevamo, è vuoto. Dentro l'armatura di Agilulfo non c'è niente, non c'è un corpo. Ho tanto inteso parlare di voi, disse Priscilla, e da tempo era mio ardente desiderio incontrarvi. Quale miracolo vi ha portato su questa strada così remota? Sono in viaggio per intracciare, prima che sia troppo tardi, disse Agilulfo, una verginità di or sono 15 anni. Come abbiamo spiegato, infatti, all'inizio, lui deve legittimare il suo titolo nobiliare e quindi deve trovare Sofronia, che deve dire lì che lei era vergine 15 anni prima. Non ho mai udito in presa cavalleresca che avesse una meta così sfuggente, disse Priscilla, ma se sono passati i 15 anni non ho scupro a farvi ritardare ancora una notte, chiedendovi di restare ospite del mio castello, e si avviò al suo fianco. Le altre donne rimasero tutte con gli occhi addosso a lui, finché non sparì con la castellana in un seguito di sale. Allora si voltarono a Gurdulù. Oh, che bel tocco di palafreniere, fanno battendo le mani. Lui se ne sta lì come un babbeo e si gratta. Peccato abbia le pulce, puzzi tanto, dicono. Su, svelte, laviamolo. Lo portano nei loro quartieri e lo spogliano nudo. Ecco allora, dicevamo. Gurdulù è esattamente, come dire, complementare ad Agilulfo. È l'esatto opposto di Agilulfo. Quanto lui è pulito, lindo, sempre attento all'esteriorità della sua apparenza di cavaliere, e all'armatura sempre, ricordate che se avete letto l'inizio del romanzo, praticamente non dorme mai e utilizza tutto il tempo per lisciare la sua armatura, per renderla sempre perfetta, luccicante, eccetera. Al contrario, Gurdulù, ha le pulce addosso, puzza, pensa sempre solo a mangiare, ricordate che ha in mano uno spiedo, e con quello infatti attacca gli orsi, e allora le altre donzelle, le domestiche, devono lavarlo prima di poter avere un rapporto con lui, ovviamente. e lo spogliano nudo. Le immagini che compaiono in queste slide provengono dal film, in tecnica mista, Il cavaliere inesistente di Pino Zack del 1971. Tecnica mista vuol dire che è un film fatto per una parte di animazioni, e per l'altra di attori che recitano. Priscilla aveva condotto a Gilulfo a una tavola apparecchiata per due persone. Conosco la vostra abituale temperanza, cavaliere, gli disse, ma non so come incominciare a farvi onore, se non invitandovi a sedere a questo desco. Certamente, aggiunse Maliziosa, i segni di gratitudine che ho in anima ad offrirvi non si fermano qui. Praticamente lei, cioè Priscilla, sta facendo capire, insomma, sapete come fanno le donne, insomma, quali sono le sue intenzioni, che vorrebbe non fermarsi semplicemente ad una cena insieme, no? E quindi dice che ha qualcosa in serbo in più per lei. A Gilulfo ringraziò, sedette di fronte alla castellana, sminuzzò qualche briciola di pane tra le dita, stette qualche momento in silenzio, si schiarì la voce e attaccò a parlare del più e del meno. Davvero strane e fortunose, signora, le venture che toccano in sorte a un cavaliere errante, esse, peraltro, possono raggrupparsi in vari tipi. Primo, ci sono i puntini di sospensione, perché a Gilulfo aveva questa caratteristica. Quando iniziava a parlare di un argomento, si metteva a spiattellare tutto quanto, dall'inizio alla fine di questo argomento, come se fosse una specie di libro di enciclopedia parlante. E così conversa, affabile, preciso, informato, talora facendo affiorare un sospetto di eccessiva meticolosità, subito corretto però dalla volubilità con cui passa a parlare d'altro, intercalando le frasi serie con motti di spirito e scherzi sempre di buona lega, dando sui fatti e sulle persone giudizi né troppo favorevoli né troppo contrari, tali sempre da poter essere fatti proprio dall'interlocutrice, alla quale offre il destro di dir la sua, incoraggiandola con garbate domande. «Oh, che conversatore delizioso fa Priscilla!» E si bea, Priscilla è contenta, perché è convinta che possa coronarsi il suo sogno di amore con Agilulfo. Capite? È tutta una specie di ambiguità e di equivoco che sta alla base di questo rapporto fra i due. Tutto a un tratto, così come aveva cominciato a discorrere, Agilulfo sprofonda nel silenzio. «E ora che cominci noi canti!» Allora, sì, è vero, sarà stato anche un conversatore affabile, eccetera, ma quando poi termina la carica, tra virgolette, di quello che deve dire, sta in silenzio e la conversazione risulterebbe un pochettino, insomma, il rapporto, diciamo così, la conversazione risulterebbe un pochettino tronca. E questo è il momento in cui Priscilla dice «E ora che cominci noi canti!» perché nel suo progetto, il progetto d'amore, di una notte d'amore con questo cavaliere, certamente la musica può essere, come dire, un mezzo per portare avanti questo progetto. e quindi può fare da supporto. «E ora che cominci noi canti!» fece Priscilla, batte le mani. Entrarono nelle sale le suonatrici di liuto. Una intonò la canzone che dice «Il licorno coglierà la rosa!» e poi quell'altra «Jasmin!» e poi c'è un'espressione in francese che vorrebbe più o meno dire, credo, una cosa del genere, tipo vuoi abbellire questo bel pranzo, questa bella cucina. Ecco, in pratica, queste cose che vengono cantate hanno dei riferimenti, diciamo così, all'ambito, alla sfera sessuale. Infatti, il licorno che coglie la rosa sarebbe come a dire, attraverso questa canzone, è come se si volesse invogliare questo cavaliere ad accettare le offerte d'amore, no? Quindi a cogliere la rosa, appunto, il fiore d'amore che le offre Priscilla. Agilulfo ha parole d'apprezzamento per la musica e le voci, ma non capisce fino in fondo qual era lo scopo di queste canzoni. Uno stuolo di giovinette entrò danzando, avevano tuniche leggere e ghirlandette tra i capelli. Agilulfo accompagnava la danza battendo a ritmo con i suoi guanti di ferro sulla tavola. Non meno festose erano le danze che si svolgevano in un'altra ala del castello, nei quartieri delle dame del seguito. Cioè, parallelamente, mentre Agilulfo ha questa serata, insomma, con Priscilla, questa cena, musica, eccetera, Gurdulù è insieme con le domestiche, con le fantesche. Le cose lì, però, vanno in un modo completamente diverso. Mentre nella cena, insomma, con Priscilla, prevalgono i discorsi e i dialoghi e non si arriva mai a nulla di concreto, dall'altra parte, dove c'è Gurdulù, invece, è l'aspetto corporale, del corpo, insomma, che ha il sopravvento. Infatti, dice, Semi svestite, le giovani donne giocavano alla palla e pretendevano di far partecipare al loro gioco Gurdulù. Lo scudiero, vestito anche lui di una tunichetta che quelle dame gli avevano prestato, anziché stare a suo posto ad aspettare che la palla gli venisse lanciata, le correva dietro e cercava di impadronirsene in ogni modo, buttandosi a corpo morto addosso all'una o all'altra donzella. E in queste mischie spesso era colto da un'altra ispirazione e rotolava con la donna su uno dei morbidi giacilli che erano stesi là intorno. Ecco qui, invece, come vedete, tutto corpo e quindi tutto quello che avviene tra Gurdulù e queste domestiche è caratterizzato dalla corporeità di questo tale Gurdulù. Oh, ma che fai? No, no, somaraccio! Ah, guardate cosa mi fa! No, voglio giocare alla palla! Gurdulù ormai non capiva più niente tra il bagno tiepido che gli avevano fatto fare, i profumi e quelle carni bianche e rosa ormai il suo solo desiderio era diffondersi al generale Fragranza. Ah, ah, è di nuovo qui! Uh, mamma mia! Ma senti un po'! Ah! Le altre giocavano la palla come niente fosse, scherzavano, ridevano, cantavano Ola, ola, la luna in alto vola! La donzella che Gurdulù aveva strappato via dopo un estremo lungo grido tornava tra le compagne un po' affocata in viso un po' stordita e ridendo, battendo le mani su, su, qua a me riprendeva a giocare. Non passava molto e Gurdulù rotolava addosso a un'altra. Via, scio, scio, ma che noioso ma che arruento no, mi fai male ma di e soccombeva. Altre donne giovanette che non partecipavano ai giochi sedevano su panche e discorrevano tra loro. È perché Filomena, sapete, era gelosa di Clara ma invece si sentiva abbrancare da Gurdulù e la vita. Uh, che spavento! Invece diceva Virigelmo pare che andasse con eufemia ma dove mi porti? Gurdulù se l'era caricata in spalla. Avete capito? Quell'altra scema intanto con la sua gelosia al solito continuava a chiacchierare a gesticolare la donna penzolando dalla spalla di Gurdulù e spariva. Non era passata molto tempo e ritornava scarmigliata a una spallina strappata e si rimetteva lì fitto, fitto. È proprio così, vi dico. Filomena fece una scena clara l'altro invece eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come vedete praticamente la notte d'amore di Gurdulù con queste domestiche con queste fantesche è caratterizzata da un rapporto dopo l'altro. È così queste domestiche e queste fantesche interrompono momentaneamente quello che stavano facendo il gioco alla palla nel caso della prima o il racconto di una storia nel caso della seconda si uniscono con Gurdulù e poi riprendono a fare quello che stavano facendo prima. Dalla sala dei banchetti ritornando invece a quello che stava accadendo ad Agilulfo e a Priscilla intanto danzatrici e suonatrici si erano ritirate. Agilulfo si dilungò ad elencare ecco, praticamente quelle danzatrici quelle suonatrici avevano solamente lo scopo di risvegliare in Agilulfo degli istinti sessuali che lui però non poteva avere perché non avendo corpo non poteva come dire portare a compimento i sogni erotici di Priscilla. Rimane lui da solo con Priscilla. Agilulfo si dilungò ad elencare alla castellana cioè appunto a Priscilla la signora di questo castello le composizioni che i musici dell'imperatore Carlo Magno eseguivano più di sovente. Ecco, quindi vedete come è paradossale erano venute queste suonatrici avevano intonato queste canzoni a sfondo erotico per suscitare diciamo così delle passioni amorose e lui invece coglie l'occasione solamente per elencare le composizioni che i musici dell'imperatore eseguivano più di frequente. Il cielo si imbruna osservò Priscilla è chiaro evidente è una di quelle espressioni attraverso le quali Priscilla come le donne fanno e devono fare insomma non è così esplicita cerca di farsi capire dall'uomo e se l'uomo è uno sveglio o e non è uno capisce subito che cosa vuol dire la donna con certe espressioni il cielo si imbruna osservò Priscilla è notte è notte fonda ammise Agilulfo cioè senza capire diciamo così che cosa voleva intendere lei con quella espressione il cielo si imbruna lei voleva intendere andiamo di là nella camera da letto perché è il momento di potersi appartare da soli noi due non c'è più nessun altro sono andati via le suonatrici e le danzatrici ma lui dice solo è notte è notte fonda la stanza che vi ho riservato grazie udite l'usignolo là nel parco la stanza che vi ho riservato è la mia come dire insomma non è che vi ho riservato una stanza a parte cioè dormireste con me se non vi spiace non so se capite insomma la proposta più esplicita di così di Priscilla la vostra ospitalità è squisita è da quella quercia che canta cioè continua il suo discorso che ha sentito che è un usignolo che faceva i suoi versi e riprende a dire quello che stava dicendo prima questo è Rambaldo in quel film è da quei versi che canta l'usignolo avviciniamoci alla finestra salzò le porse il ferreo braccio si accostò al davanzale il gorgheggio degli usignoli gli diede allo spunto per una serie di riferimenti poetici e mitologici cioè lui prende l'occasione sente l'usignolo prende l'occasione per iniziare a fare riferimenti poetici e mitologici di letteratura insomma in quel frangente lì sei da solo con una donna ma Priscilla tronconnetto insomma l'usignolo canta per amore e noi eh ah l'amore gridò oggi l'ulfo con un soprassalto di voce così brusco che Priscilla ne restò spaventata e lui di punto in bianco si lanciò in una dissertazione sulla passione amorosa anche sull'amore lui fa dissertazioni disquisisce su tutto anche sull'amore Priscilla era teneramente accesa appoggiandosi al suo braccio lo spinse in una stanza dominata da un gran letto con baddacchino presso gli antichi essendo l'amore considerato un dio continuava a girulfo fitto fitto Priscilla richiuse la porta a doppia mandata come dire qui chiudiamo bene non vogliamo essere disturbati si avvicinò a lui chinò il capo sulla corazza e disse ho un po' freddo il cammino è spento come dire riscaldami tu il parere degli antichi disse a girulfo se fosse meglio amarsi in stanze fredde oppure calde è controverso ma il consiglio dei più eccetera lui non capisce oh come voi conoscete tutto dell'amore bisbigliava Priscilla il consiglio dei più pur escludendo gli ambienti soffocanti propende per un certo natural tepore devo chiamare le donne ad accendere il fuoco lo accenderò io stesso esaminò la legna catastrata nel camino vantò la fiamma di questo o di quel legno enumerò i vari modi di accendere fuochi all'aperto o in luoghi chiusi un sospiro di Priscilla l'interruppe come rendendosi conto che questi nuovi discorsi stavano disperdendo la trepidazione amarosa che si era andata creando Agilulfo prese rapidamente ad infiorare il suo discorso sui fuochi di riferimenti e paragoni allusioni al calore dei sentimenti e dei sensi Priscilla ora sorrideva occhi socchiusi allungava le mani verso la fiamma che cominciava a scoppiettare e diceva quale grato tepore quanto deve essere dolce gustarlo tra le coltri coricati l'argomento del letto suggeria del Agilulfo una serie di nuove osservazioni secondo lui la difficile arte di fare il letto è ignota allefantesche di Francia e nei più nobili palazzi non si trovano che lenzuola rincalzate male oh no ditemi anche il mio letto domandò la vedova di certo il vostro è un letto da regina superiore a ogni altro in tutti i territori imperiali ma permettete ecco qua incomincia insomma praticamente a dire che si è vero è un bel letto però ci sono delle imperfezioni quindi adesso io devo mettermi a rifare il letto per via di questa ossessione dell'esattezza della precisione eccetera Agilulfo bada a tutti questi particolari e non bada all'essenziale cioè che si trova lì di fronte una donna desiderosa insomma di fare di avere un rapporto con lui ecco quindi dicevamo vorrei avrei il desiderio di vedervi circondata solo di cose in ogni loro punto degne di voi mi porti a considerare con apprensione questa piega cioè si è un letto perfetto ma c'è una piega qua nel suono oh questa piega gridò Priscilla presa anch'essa ormai dallo struggimento di perfezione che Agilulfo le comunicava disfecero il letto astrato astrato scoprendo e recriminando piccole gibbosità sbuffi tratti troppo tesi o troppo rilassati e questa ricerca ora diventava uno strazio lancinante e ora un'ascesa in cieli sempre più alti ecco ovviamente è tutto ironico attraverso questa descrizione è come se lui volesse prendere in giro abbiamo detto se stesso perché lui era un tipo esatto preciso e anche volesse prendere in giro l'uomo del suo tempo l'uomo del tempo l'uomo contemporaneo che bada a questi particolari ma perde l'essenza delle cose buttato il letto sossopra fino al paglione a girulfo prese a rifarlo secondo le regole era un'operazione elaborata nulla deve essere fatto a caso e vanno messi in opera accorgimenti segreti e gli andava spiegando diffusamente alla vedova ma ogni tanto c'era un qualcosa che lo lasciava insoddisfatto e allora ricominciava da capo a fare il letto dalle altre ali del castello risuonò un grido anzi un mugito o raglio incontenibile cos'è stato trasali priscilla niente e la voce del mio scudiero disse lui a quel grido se ne mischiavano altri più acuti come sospiri strillati che salivano le stelle ma adesso che cos'è si domandò il girulfo oh sono le ragazze disse priscilla giocano si sa la gioventù e continuavano a rassettare il letto loro continuano a rassettare il letto e a rifare il letto mentre dall'altra parte del castello gurdulù con le fantesche eccetera eccetera e continuavano a rassettare il letto dando orecchie ogni tanto ai rumori della notte gurdulù grida che chiasso a queste donne l'usignolo i grilli il letto era ora pronto senza pecchi finalmente alla fine la fanno ed è perfetto agilulfo si voltò verso la vedova era nuda le vesti erano castamente scese al suolo lei si spoglia totalmente davanti a lui e lui invece di incomincia a dire alle dame ignude si consiglia dichiarò agilulfo come la più sublime emozione dei sensi l'abbracciarsi a un guerriero in armatura bravo lo vieni a insegnare a me fece Priscilla come dire sono ore e ore che sto cercando di farti capire non sono mica nata ieri e in così dire spiccò un salto e si arrampicò ad agilulfo stringendo gambe e braccia attorno alla corazza provò uno dopo l'altro tutti i modi in cui un'armatura può essere abbracciata poi languidamente entrò nel letto agilulfo si inginocchiò al capezzale i capelli disse Priscilla spogliandosi non aveva disfatto l'alta conciatura delle sue brune brunacchiome agilulfo presa ad illustrare quanta parte abbia nel trasporto dei sensi la capigliatura sparsa insomma bisogna sciogliersi i capelli proviamo con mosse decise delicate dalle sue mani di ferro le sciolse il castello di trecce facendo ricadere la chioma sul petto e sulle spalle però soggiunse ha certamente più malizia colui che predilige le dame dal corpo ignudo ma dal capo non solo acconciato di tutto punto ma pure addobbato di veli e diademi riproviamo sarò io a pettinarvi la pettinò e dimostrò la sua valenza nell'intessere trecce nel rigirarle e fissarle sul capo con gli spilloni poi preparò una fastosa acconciatura di veli e di vezzi così passò un'ora ma Priscilla quando egli le porse lo specchio non si era mai vista così bella l'onvitò a collocarsi al suo fianco dicono che Eclopatra ogni notte e gli disse sognasse di aver letto un guerriero in armatura non ho mai provato confessò lei tutti se la tolgono assai prima ebbene adesso proverete e lui non può togliersi l'armatura perché beh sotto l'armatura non c'è niente e lentamente senza gualcire l'enzuola entrò armato di tutto punto nel letto e si stese composto come in un sepolcro e neppure vi sracciate la spada dal budriere dove è appunto inserita la spada è fodero la passione amorosa non conosce via di mezzo Priscilla chiuse gli occhi estasiata Agilulfo si sollevò su un gomito il fuoco butta fumo ma al suo vedere come mai il cammino non tira alla finestra spuntava la luna tornando dal cammino verso il letto Agilulfo si arrestò signora andiamo sugli spalti a godere di questa tarda luce lunare la fosse nel suo mantello allacciati salirono sulla torre la luna inargentava la foresta cantava il chiù qualche finestra del castello era ancora illuminata e ne partivano ogni tanto grida o risate o gemiti e il ragno dello scudiero tutta la natura e amore tornarono nella stanza il cammino era quasi spento si accocolarono a soffiare sulle braccia stare lì vicini le rose e ginocchia di Priscilla sfiorando le metalliche ginocchiere di lui nasceva una nuova intimità più innocente quando Priscilla tornò a coricarsi la finestra era già sfiorata dal primo chiarore è passata tutta la notte e loro non avevano avuto il loro momento d'amore perché del resto era impossibile che l'avessero nulla trasfigura il viso di una donna quanto i primi raggi dell'alba disse Agilulfo ma perché il viso apparisse nella luce migliore fu costretto a spostare lecco e baldacchino come sono chiese la vedova bellissima Priscilla era felice però il sole saliva rapido e per inseguirne i raggi Agilulfo doveva spostare continuamente il letto e l'aurora disse la sua voce era già mutata il mio dovere di cavaliere vuole che a quest'ora io mi metto in cammino basta ormai è tutto finito niente è successo ovviamente fra i due niente poteva succedere e ormai è anche il momento in cui Agilulfo deve riprendere il cammino perché il cavaliere ormai era alba e quindi deve di giagge mette Priscilla proprio adesso mi duole gentile dama ma sono spinto da un compito più grave oh era così bello Agilulfo benedicetemi Priscilla sazza già chiama lo scudiero gira per tutto il castello finalmente lo scova finito addormentato morto in una specie di canile svelto in sella ma deve caricarlo di peso il sole continuando la sua scesa campisce le due figure a cavallo sull'oro delle foglie del bosco lo scudiero come un sacco l'embilico il cavaliere dritto e svettante come la sottile ombra di un pioppo attorno a Priscilla erano accorse dame fantesche come è stato padrona come è stato una cosa sapeste un uomo un uomo ma diteci raccontateci com'è un uomo un uomo una notte un continuo un paradiso ma che ha fatto che ha fatto come si fa a dire oh bello bello ma con tutto che è così eppure dite dite ecco ovviamente le fantesche vorrebbero sapere da Priscilla che cosa è successo ma lei non può dire più di tanto adesso non saprei come tante cose ma voi piuttosto con quello scudiere con quello scudiero eh oh niente non so tu forse no tu ma che non ricordo ecco il paradosso praticamente Priscilla racconta alle fantesche di aver passato una notte chissà che notte con un uomo chissà che uomo ma in realtà non è successo niente tra lei e Agilulfo come abbiamo visto al contrario tra le fantesche e le domestiche e Gurdulù ne erano successe di cose ma tante tantissime e invece loro minimizzano e dicono ma niente non so tu forse no tu ma che non ricordo ma come vi si sentiva care mie ricordate infatti che nella notte trascorsa Priscilla e Agilulfo sentivano chiaramente diciamo così i versi d'amore delle fantesche e i ragli di Gurdulù ma chissà poverino io non ricordo neanche io ricordo forse tu ma che io padrona diteci di lui del cavaliere come era Agilulfo oh Agilulfo ecco e quindi paradossalmente Agilulfo paradossalmente vincente nel senso che insomma serba Priscilla un'impressione di estasi amorosa di galanteria di finezza cortese anche se non ha avuto alcun rapporto carnale con Agilulfo con questo oh Agilulfo finale in un certo senso si gioca paradossalmente la vittoria di questo uomo uomo immateriale che riesce comunque a mantenere un certo fascino anche se nella sostanza non ha combinato esattamente niente con questa donna grazie a tutti